Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. E' stato davvero un grande spettacolo, quello regalato ieri dalla diciannovesima tappa del Giro d'Italia partita da Marano Lagunare e arrivata al santuario di Castelmonte dove ha trionfato l'olandese Bowman al termine di una lunga fuga con un concitato finale. Massima soddisfazione per il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il patron della tappa Enzo Cainero. Li risentiamo. Presidente, come sempre un grande successo e un grande spot per il Triuli Venezia Giulia. Sì, mi dicevano proprio adesso, 210 paesi al mondo guardano il Giro d'Italia. È chiaro che la capacità di promozione di questo evento è importante e si inserisce all'interno di una programmazione che abbiamo fatto proprio per promuovere il Triuli Venezia Giulia. Costante negli ultimi anni, con campagne nazionali, con eventi importanti. Quest'anno penso abbiamo la più grande stagione di concerti nella storia di Triuli Venezia Giulia con tutti i principali nomi nel nostro territorio. E questo ci sta premiando perché abbiamo visto che il Triuli Venezia Giulia è la regione che ha tenuto di più anche nel momento di difficoltà rispetto alla pandemia a numeri ufficiali ormai. Questo è un percorso che deve andare avanti negli anni. Non possiamo pensare che la promozione turistica sia basata su spot o eventi estemporanei, ma gli eventi sono importanti ma all'interno di una programmazione. Enzo, se non ci fosse stato il caldo sarebbe comunque stata una faticaccia questa giornata, però abbiamo visto uno spettacolo bellissimo. Io sono molto contento innanzitutto perché abbiamo mostrato dalla partenza all'arrivo un paesaggio straordinario. Faccio i complimenti alla gente, si sono comportati molto bene, hanno avuto una bella partecipazione e di questo io sono molto contento perché l'immagine che possiamo dare nel mondo è molto importante per l'oggi e per il domani. Abbiamo fatto molto bene, la partenza di Marano forse, mi permetto di dire, è la partenza più bella che abbiamo mai fatto. Cainero c'entra all'Ussari e poi... Sì è vero, vero, vero. Guardate, so solo io e chi mi è stato vicino in questi mesi quanto sia snervante questa situazione. Ma e poi chi prende il testimone Cainero? C'è già qualcuno in stage che sta lavorando e riferirà poi dopo questa esperienza che cosa intende fare e se intende fare o meno la cosa. Vediamo. Un bacio al figlio Andrea, un sorriso a papà Renzo e mamma Enrica e poi via con il gruppo. È stato breve ma intenso il momento in cui Alessandro De Marchi si è fermato a salutare Buia, la sua famiglia, proprio a due passi dalla casa natale. Una grande emozione per i genitori e tutto il paese. Un bacio al figlio Andrea, uno scambio di parole con papà Renzo e un sorriso a mamma Enrica. L'omaggio di Buia al suo campione Alessandro De Marchi è tutto in questa immagine, una delle più toccanti dell'intera Corsa Rosa. Vino e salame, lo aspettavano non li ha toccati, ma gli occhi ad ale brillavano sotto il caschetto mentre i cuori dei genitori battevano all'impazzata. Lo si è fermato, per noi è una grandissima emozione e anche per tutti i bambini e tutte le persone che veramente credono in lui e lo tifano. L'altra volta quando è passato il giro lui purtroppo non ha potuto esserci e quindi questa è una bellissima occasione che ha approfittato di poter fare questa benissima festa. Lui sperava solo di chiudere il giro e arrivare qui a Buia, poi al di là del valore delle tappe, fuga o non fuga, anche oggi è molto difficile andare in fuga, però lui voleva assaporare questi momenti qua e insomma ci è riuscito. Ma è stato anche l'abbraccio di tutto il paese al Rosso di Buia che quest'anno è arrivato sulle strade del Friuli, passando proprio di fronte alla sua casa natale mentre la moglie lo attendeva a Castelmonte. Abbiamo fatto le magliette, il Berrettini, abbiamo realizzato questa bella coreografia. Qui abbiamo la grande bici che dal 2014 gira il Friuli. E tante stelle del ciclismo si sono date appuntamento ieri a Castelmonte per vedere la tappa friulana del Giro d'Italia. Oltre al friulano Daniele Pontoni, CT della Nazionale Italiana di Ciclocross, erano presenti anche Paolo Bettini, vincitore di due mondiali, e Daniele Bennati, selezionatore della squadra azzura di ciclismo. Li abbiamo sentiti al traguardo. Credo che le due tappe più spettacolari a livello di percorso tecnico, valido, Torino e oggi. Io l'ho fatta in macchina fortunatamente, però come sempre i percorsi qua in Friuli sono veramente tosti. Infatti l'abbiamo visto, soprattutto la salita del Colovrat è una salita che ha fatto selezione. Assolutamente sì, ma le discese, le discese molto insidiose, bellissime perché ha sfarto perfetto, però sai, nel complesso della tappa, salita dura, discesa, molto tecnica, alla fine abbiamo visto come il gruppo esplode. Bennati, che tappa abbiamo visto oggi? Beh, come al solito è una tappa molto combattuta, fin dalle prime fasi dell'inizio, tanti scatti, poi una bella fuga di qualità. Con due italiani comunque sono lottati la vittoria fino agli ultimi metri, peccato. Un po' anche per l'incomprensione dell'arrivo, che probabilmente sono cose che possono capitare nelle fasi, diciamo, concitate, la fatica e tutto. Però, insomma, ha vinto questo ragazzo olandese che ha la sua seconda vittoria al Giro d'Italia, quindi ha dimostrato di essere in ottima condizione. E ieri abbiamo visto anche un grande Affini. Ma anche oggi, anche oggi. Ieri è sfuggita per poco la vittoria, Edoardo sta pedalando bene, è uno di quei corridori che è nella mia lista, per cui bene, oggi ha lavorato per il suo compagno di squadra e questa vittoria è anche merito suo. Parliamo adesso delle condizioni meteo, perché un forte vento sta imperversando da questa notte anche in Friuli Venezia Giulia, abbassando le temperature, ma soprattutto creando anche piccoli danni alle abitazioni. Sono stati finora una ventina gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine, che si sono prodigati per mettere in sicurezza alberi e rami e transenne cadute di cantieri e dili caduti nella strada. Ora la cronaca. Una donna di 35 anni, pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, è stata arrestata dalla squadra volante della questura di Pordenone, in quanto destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Monza per l'espiazione di quasi due anni di reclusione. La donna è stata bloccata dagli agenti in seguito alla segnalazione della presenza di quattro giovani sospette che si aggiravano a Pordenone tra i condomini del quartiere residenziale San Gregorio. Oltre a lei, anche una ragazza di 15 anni è stata fermata con pregiudizi di polizia per furto aggravato. La ragazza custodiva due cacciaviti e una chiave a pappagallo occultati in un calzino e anche alcuni monili in oro contenuti in un sacchettino. È stata denunciata in stato di libertà per il possesso degli strumenti atti alle frazione. E i vigili del fuoco sono intervenuti pochi minuti fa per la segnalazione di un incendio all'esterno del centro commerciale d'aredamento di Po a Tavagnaco. Hanno risposto alla chiamata di un cittadino che, uscendo dal centro, ha notato del fumo bianco provenire dalla parete esterna laterale. Le fiamme sono state domate in poco tempo senza provocare ulteriori danni. La Regione conferma fino al 30 giugno gli incentivi per l'acquisto dei carburanti, boccata d'ossigeno per i gestori che attendono ancora i rimborsi per la riduzione delle aliquote di accisa. La Giunta regionale ha confermato gli incentivi regionali per l'acquisto dei carburanti per autotrazione fino al 30 giugno. Gli importi per la zona 1 sono di 29 centesimi al litro per la benzina e 20 centesimi per il gasolio. Nella zona 2 sono di 22 centesimi al litro per la benzina e 16 per il gasolio. Manca però la definizione tra Governo nazionale e regionale delle modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti. È una boccata d'ossigeno per i gestori che si riflette positivamente sui cittadini, commenta Gianni Bressan della FIGIS di Udine, sottolineando che negli ultimi giorni il costo della benzina è aumentato di 5 centesimi, il gasolio calato di 3 centesimi al litro. I gestori tra l'altro sono ancora in attesa ad avere i rimborsi per la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti in vigore fino all'8 luglio per benzina e gasolio. Gli importi variano dai 5.000 agli 8.000 euro e corrispondono al quantitativo di carburante che avevano in deposito prima dell'avvio del provvedimento. A un anno dalla sua scomparsa il nome dello scrittore Paolo Maurensic è stato iscritto nel famedio dei benemeriti di Udine nel cimitero di San Vito. Un esempio anche per le giovani generazioni, afferma l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. Esempio di discrezione, di misura, di capacità di ascolto. Mai una parola, un tono troppo elevato. Adesso anche vediamo grandi autori, per carità, di qualità dei quali non si discutono, però che intervengono su tutto, aggrediscono nei talk show, siamo il contraddittore. Invece abbiamo bisogno, secondo me, di un Paolo Maurensic che ci invita, con i suoi comportamenti, ad essere un po' più prudenti, ad essere un po' più rispettosi, ad essere un po' più discreti, anche nel porgere le proprie tesi, le proprie affermazioni. Io credo che Paolo sarà uno di quegli autori che continuerà a essere letto nel tempo e mi pare che anche il fatto che grandi case editrici abbiano voluto pubblicarlo testimoni il fatto che hanno visto in lui sinceramente uno dei migliori, realmente uno dei migliori interpreti della letteratura di questo scorcio dell'inizio 2000, ma della fine del Novecento. Chi era Paolo? Era unico per me, è chiaro. Lei è contenta oggi, in questo momento, ti ricordo? Triste, ma anche tanto contenta che sia stato ricordato, che si ricorda così, ecco. A me manca tutto. Rimaniamo a Udine, dove è stato presentato al pubblico questa mattina in Castello il libro Orcolat 45, uscito un anno fa per commemorare il 45esimo anniversario del terremoto in Friuli e per sottolineare l'importanza del contributo operativo delle Forze Armate nelle fasi dei soccorsi e della ricostruzione. Il Friuli ringrazia e non dimentica. Da una delle espressioni più ricorrenti riferite al terremoto che ha colpito la regione nel 1976 parte la presentazione del libro Orcolat 45, una produzione letteraria che si prefigge di mettere in risalto il ruolo delle Forze Armate nei soccorsi e nella ricostruzione post-sisma. Testimoni a questo libro, non solo riconoscimento alle Forze Armate che hanno collaborato in maniera organizzata e hanno subito fratellato con la popolazione perché c'è stato veramente un riconoscimento costante, qui poi noi avevamo moltissime caserme, molti militari, quindi c'è stato veramente questo grande spirito di riconoscenza e di orgoglio anche da parte dei militari per aver contribuito non da poco, veramente con grande costanza e soprattutto con organizzazione a difesa di quelli che sono i valori poi che sono stati portati avanti nella ricostruzione, nello spirito dei filulani della ricostruzione, di come è andata la ricostruzione che è un vanto. Accadimenti così tragici che hanno visto però una risposta da parte delle istituzioni ma soprattutto dall'esercito, quindi dei ragazzi, i ragazzi in servizio allora una risposta per combattere questo orco, quindi questa situazione così grave che ha creato così tanta angoscia. Qui la protezione civile nasce proprio negli anni successivi come risposta organizzata a quello che si è visto essere un meccanismo che è sorto spontaneo. Questa edizione del telegiornale termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.